Archiviata la Coppa in eccellenza è tempo di concentrarsi nuovamente sul campionato. All'orizzonte c'è la quarta giornata con fari puntati sulla coppia di vertice del girone A formata da Bisceglie e Manfredonia. Entrambe a punteggio pieno, entrambe fermamente intenzionate a non fermarsi. Il team di Franco 5, reduce dal pari per 2 a 2 in Coppa contro il Mola, sarà chiamato a ripartire a marce alte contro il Foggia in Cedit Matricola che sin qui ha totalizzato un solo punto. Appuntamento alle 15.30 al Ventura, i Sipontini guidati da Pasquale De Candia saranno invece di scena in trasferta sul campo del San Marco dopo aver superato nel primo round del secondo turno di Coppa il San Severo. Nel programma della quarta giornata inaugurata alle 11 da Borgo Rosso Molfetta a Real City spicca anche Corato Canosa, padroni di casa che hanno cancellato la falsa partenza con due vittorie di fila, ospiti reduci dal primo successo in campionato. In calendario anche Ortanova-Vigortrani, Polimnia-Mola e San Severo-Unione Calcio-Bisceglie. Nel girone B giocano tutte in casa le prime tre della classe. Il Gallipoli ospita Lugento, la vetrana attende il Novoli in un derby molto sentito mentre il Manduria sfiderà davanti ai propri tifosi il Maglie. Trasperta a Ginosa per il città di Gallipoli, fresco di vittoria nel derby di Coppa. Completano il programma del quarto turno Castellana-Arborisbelli, Otranto-Massafra e Ostuni-Virtus-Matino. Quest'ultima unica squadra ancora a quota zero. Fischio d'inizio per tutti alle 15.30.